Allora ragazzi, l'avevate capito tutti, penso, agli anni passati, quanto mi piacesse Massimiliano Allegri. L'ho sempre difeso a spada tratta fino all'ultimo istante. Trovavo ingenerose le critiche nei suoi confronti. Trovavo assurdo che un allenatore che in cinque anni ha portato undici trofei alla Juventus potesse essere messo in certi casi addirittura alla gogna, come si suol dire, un incapace, non sa leggere le partite, la Juve fa schifo per come gioca. Sembrava che non so, fosse lì per grazia divina, per caso, un incapace che aveva avuto il colpo di culo, perdonatemi il francesismo, di allenare la Juventus. E con quella squadra lì sono capaci tutti di vincere, perché poi alla fine il cerchio si chiudeva lì. Non sto parlando ovviamente della maggior parte delle persone, sto parlando di una grossa fetta di pubblico juventino. Bene, io ho sempre difeso Massimiliano Allegri, mi sono anche permesso di dire, nell'ultimo video, me lo ricorda qualcuno di voi, dell'ultima partita di campionato, all'ultima diretta, mi ero permesso di dire, mi auguro per chi lo critica che non lo debba rimpiangere tra un anno. Io non dico che adesso il tifoso della Juve debba rimpiangere Massimiliano Allegri, semplicemente perché la Coppa Italia è passata e ci sono ancora due competizioni su cui la Juve si deve misurare. E quindi io dico, se dovesse andare male in entrambe le competizioni, con Maurizio Sarri alla guida, allora sì, io credo che sia giusto rimpiangere Massimiliano Allegri, lo direbbero i fatti. Ha sempre vinto qualcosa in ogni anno in cui si è seduto su quella panchina. Ci starebbe, avrebbe un senso logico, aritmetico. Quello che voglio dire però quest'oggi è perché, proprio perché ci sono due competizioni ancora da giocare, da valutare, in questo momento trovo assurdo e ingeneroso un gioco al massacro nei confronti di Maurizio Sarri, che tra l'altro mi fa anche da un lato sorridere, non per lui, sia chiaro, ma per tutti coloro che l'avevano individuato come il guru che avrebbe svoltato il mondo della Juve e che avrebbe abbinato alle vittorie, il divertimento. Adesso chi era contento del suo arrivo dice Sarri out, c'è l'hashtag, Sarri deve andarsene, è colpevole di tutto. Ecco, adesso io trovo ingeneroso questo comportamento, perché sono ingenerose tutte le estremizzazioni delle situazioni, specialmente quando un giudizio, un parere, una situazione è in sospeso come quella attuale. Poi non si è visto il Napoli di Sarri, con la Juve, l'aveva detto, che sarebbe stato impossibile vedere il suo Napoli. L'aveva già detto quando era andato al Chelsea, che lì sarebbe stato impossibile vedere il suo Napoli, perché il suo Napoli aveva determinate caratteristiche che i giocatori del Chelsea non avevano, che i giocatori della Juve non hanno, perché i giocatori della Juve, parlo per loro, sono molto più solisti o individualisti o dotati di determinate caratteristiche singole, per cui è difficile inserirli in un contesto che gioca in maniera meccanica. Anche questo aveva detto Maurizio Sarri lo scorso 20 giugno. La Juve che voglio io nei primi 80 metri, negli ultimi 20 voglio vedere fantasia, estroabilità, tecnica, giocate singole, mi vanno bene. Non è riuscito a dare quel gioco negli 80 metri precedenti. Questo è il punto. Fino ad ora non c'è. È riuscito. Viene anche difficile pensare che dopo tre mesi di assenza dal calcio, in un periodo fatto di tre partite alla settimana, Sarri riesca nel suo intento. E allora dove mi permetto, onestamente, di essere un po' critico, questo sì, ma con la dovuta pazienza nei suoi confronti? Mi permetto di esserlo nel momento in cui ci sia ugualmente la persistente ricerca di quel tipo di gioco, che in questo momento, stante anche la condizione dei giocatori, non può esprimersi al meglio. E non c'è tempo per lavorare in questo momento, perché ogni tre giorni, dovendo giocare ogni tre giorni, non lavori. Ti alleni alla vigilia, giochi, fai il defaticante, e poi è già vigilia della partita successiva. E allora quello che io mi sento di dire in questo momento è non condividere un programma in questo periodo, estante questo tipo di partite così ravvicinate, un programma che preveda lo schema, la ricerca dell'armonia di squadra. È stato difficile prima? Credo che sia molto più difficile adesso. Adesso, secondo me, più che mai, sarebbe necessario il famoso senso pratico, portare a casa le partite anche in maniera sporca, anche, lo dico facendo schifo. Ma la Juve è abituata a portare a casa le partite, a portare a casa il trofeo, a portare a casa il titolo. Ecco in questo momento, secondo me, dove può non essere condivisibile l'atteggiamento di Maurizio Sarri, la filosofia di Maurizio Sarri. Qui ci vuole senso pratico, portare a casa le partite, vincerle. E la Coppa Italia non doveva essere una forma di passaggio o di test tattico per il lavoro svolto nel mese in cui è stato consentito lavorare. La Coppa Italia deve essere una roba da apprendere e portarsi a casa, in qualunque maniera. In qualunque maniera. Qui sì, mi sento di non essere d'accordo. Ma al tempo stesso dico che se adesso piove è colpa di Maurizio Sarri. Se c'è un terremoto è colpa di Maurizio Sarri. Se un giocatore non è arrivato alla Juve è colpa di Maurizio Sarri. Adesso sento il discorso di lo scambio di Sciglio-Curzawa che Sarri avrebbe fatto saltare perché in quel periodo si era fatto male. Aveva avuto dei problemi. Alessandro all'inizio adesso si è fatto di nuovo male. Alessandro e quindi adesso non c'è un terzino sinistro di ruolo perché Kurzawa è sinistro di ruolo. De Sciglio può giocare a destra a sinistra. Non è esattamente un sinistro di ruolo così come Danilo. Ma ragazzi, allora no. Adesso io non lo posso accettare. Qui è veramente un considerare Maurizio Sarri caprio spiatorio di tutto quanto sta avvenendo alla Juventus in questo momento. Del mancato rendimento di Ronaldo. Del fatto che i guai tra ancora un po' è colpa sua se i guai ne è fuori. Se si è fatto male ragazzi. Poi si possono analizzare determinate scelte. Si può anche dire bah forse Douglas Costa per quello che ha fatto vedere in questi anni è più un giocatore spacca partite da inserire a gara in corso che giocatore da far giocare due volte dall'inizio nello spazio di quattro giorni. Anche questo potrebbe essere opinabile. Però io parto sempre da un presupposto ragazzi. Io non faccio l'allenatore. E nessuno di voi fa l'allenatore. O forse tra di voi c'è qualcuno che fa l'allenatore. Magari in categorie inferiori eccetera. E allora se c'è qualche allenatore io lo sfido a dirmi se avendo sotto gli occhi tutta la settimana una squadra non decide di far giocare quelli che per lui sono i migliori in quel momento. Io non ho mai visto un allenatore che fa giocare una squadra per non vincero la partita. Non l'ho mai visto e spero di non vederlo mai. Ok. Per cui lì da parte di tutti noi andrebbe fatto il passo indietro. È un allenatore. È lui l'allenatore. Ha studiato per diventare allenatore. Era predisposto per fare l'allenatore. Noi non siamo allenatori. Se Maurizio Sarri venisse a dirmi come devo fare un servizio televisivo beh gli direi. Insomma mister faccia fare a me questo lavoro. Ma al tempo stesso non mi permetto di andare a dirgli. Ma mister ma perché fa giocare quello? Ma no ma ha sbagliato non ha capito niente. Ragazzi penso di essere stato chiaro in questo. Cioè poi ci sono le reazioni di pancia, le reazioni quindi emotive. A fine partita uno può essere più o meno arrabbiato, può prendersela col tal giocatore o col tal altro. Ma è questo un altro tipo di discorso, un altro pari di maniche. E allora lasciate fare a Sarri il proprio mestiere. Poi alla fine ci sarà una società che prenderà in mano la situazione. Perché la Juve se non vinci niente non è un anno transitorio. È un anno fallimentare. E ci penserà la società a prendere le eventuali decisioni. Dipenderanno dai risultati. Ok? Alla Juve contano i risultati. I risultati. Ma in questo momento lasciamo lavorare Maurizio Sarri. Sperando, ecco qua ripeto ancora il concetto, che magari possa aver capito che serve un pochino più di senso pratico. Anche a me piace vedere una squadra giocare bene. Ma in questo momento non puoi pretenderlo. Non si può pretendere. In questo momento è il periodo in cui tu devi prendere. Provare a prendere qualunque partita, in qualunque maniera. Ti dicono che non c'è il tuo calcio, che non si vede il tuo calcio. Chi se ne frega? Chi se ne frega? È l'unico appunto che mi sento di fare. Un bel chi se ne frega. Poi vedremo la fine di queste 12 partite di campionato e poi ci sarà la Champions. Lasciate fare a lui, lasciate fare ad una società che ha sempre mostrato di saper prendere le decisioni. A volte sono sbagliate, a volte possono essere sbagliate, a volte possono essere giuste, ma nessuno è infallibile. Ma lasciateli lavorare. Per il momento lasciateli lavorare. Al prossimo.